Una sfida globale e di sistema che si può vincere solo tutti insieme. Il Veneto guidato dal governatore Luca Zai ha trionfato con Milano a Losanna. La macchina è pronta a partire. Padova dice sì, parola di università, comune, provincia. Anche il comparto termale si unisce al Corom. Siamo particolarmente lieti e felici di essere stati scelti per la realizzazione delle Olimpiadi del 2026. E sicuramente tutto il territorio ne avrà un grande beneficio. Saranno sicuramente di stimolo, come diceva il nostro Presidente, affinché la Regione Veneto, ma anche lo Stato, possa realizzare quelle infrastrutture che necessitano sul nostro territorio. In primo luogo il collegamento tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e la rete ferroviaria. Untarlo per le terme la mancanza di un collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia. Un enorme disagio per ospiti stranieri che pagano un volo prezzi più che accessibili e poi, in mancanza di efficiente servizio pubblico, sono costretti a scegliere un taxi. Trasporto pubblico, ma anche strade da rinnovare da e per i luoghi di gara, da e per le diverse città venete. Come già a Padova, anche le terme sono pronte ad accogliere le nazionali in preparazione. Una che è la nazionale di scia austriaca, che ogni anno fa una preparazione qui a Montegrotto, presso un'azienda del territorio, e la nazionale spagnola che già da due anni frequenta le terme qui da noi per fare delle sessioni di immersione in apnea per aumentare la propria prestazione atletica. La volontà di partire c'è, con enormi speranze. Padova, insieme a tutto il territorio delle terme dei Colli Ugani, dovranno fare sistema per potersi presentare al meglio per questa occasione, che soprattutto si rivelerà importante dopo la chiusura dei giochi. Come insegna l'esperienza di Torino 2006, i benefici si aspettano, infatti, anche a lungo termine.